buongiorno a tutti scusate e bentornate sul mio canale allora eccomi che torno ovviamente con un nuovo tutorial sempre semplicissimo e con pochi materiali quindi è adatta è adatto anche alle principianti come ho già fatto vedere sui vari social ho fatto vedere questa questo set ecco di bracciale e orecchini in questo set ovviamente il tutorial degli orecchini lo trovate già sul mio canale youtube che poi vi lascerò il link giù nell'info box se volete fare il set diciamo la parure sono gli orecchini silvi e da qui ovviamente come vedete il bracciale è formato dei modulini centrali di questi orecchini quindi il bracciale avrà sempre il nome degli orecchini che sarà proprio un completo insieme e quindi questo il bracciale silvi che è dedicato sempre a una persona che è una persona speciale che fa parte della mia vita è una bravissima creativa è una bravissima persona quindi ormai lo sapete che si tratta di silvana vergara e ovviamente anche queste orecchini ha avuto hanno avuto grande successo penso che di più per per i pochissimi materiali e soprattutto perché sono comuni quindi sicuramente tutte ce l'abbiamo in casa sia il bicono perle qui per esempio ho usato il bicono è però nel modulino silvi che se andate a vedere nel link ho usato le perle quindi qualsiasi cosa di 4 mm va bene lo stesso quindi se non avete bicono usate le perle o mezzi cristalli o quello che avete questo modulino è un po modificato come vedete qui dovevo inserire solo una 11 e qui dovevo inserire aiuto una 11 da una parte all'altra invece ho modificato quindi tra le copie di super duo se volete farli in questo modo in questa versione modificata se volete scusate tra le copie di super 2 inserite un bicono una perla quello che avete invece qui fate tipo un picco di tre rocaille e viene così che sono molto carini e molto leggeri non troppo vistosi diciamo che comunque si possono indossare tutti i giorni e questo il bracciale come vedete morbidissimo una cosa che io adoro e poi è molto delicato un'altra cosa che io adoro e bracciali che non mi piacciono quelli grossi grandi non so se ho mai fatto un tutorial e non credo di farlo perché non mi piacciono a me piace la semplicità e guardate come carino cioè veramente stupendo ok questo è il primo set invece questo ve lo avevo fatto vedere l'anno scorso a settembre ottobre che avevo fatto questo set qui si tratta di un bracciale e di un giro collo che il giro collo mi piace davvero tanto l'ho già indossato parecchie volte ed è stato molto apprezzato quindi mi piace davvero tantissimo poi ovviamente voglio vedere anche le vostre versioni mi raccomando bene spostiamo il tutto adesso vi presento i materiali per fare il bracciale ci servono dei bicono allora dei bicono che useremo solo per attaccare i modulini tra di loro o perle o mezzi cristalli cipollotti quello che avete che userò questo blu e argento poi ci serviranno le super duo che uso questi a b non mi ricordo il colore la bustina non è sua quindi è un blu a b sapphire a b se non sbaglio ovviamente sempre da silvana questi queste sono le rocaille toho 11 0 cristalline che sono molto luminose c'è alla luce del sole sono veramente fantastiche poi ci servirà una chiusura e anellini chi userò questa chiusura ecco in vicinanza di san valentino proprio il cupido e che ho già attaccato anche gli anellini come vedete quindi servirà una chiusura e anellini filo io sto utilizzando un filo miyuki ago pony numero 10 e poi ci servirà un paio di forbice delle pinze per attaccare la nostra chiusura bene sistemo il tutto e partiamo con il tutorial ecco qui avviciniamo un po ecco in questo modo come vedete ho inserito sul filo 6 super duo adesso rientrando nelle perline dobbiamo chiudere a cerchio quindi rientriamo in tutte le super duo ecco finché i due capi si uniscono vedete i due pezzettini di due capi di filo facciamo un paio di nodini mi raccomando usate un filo trasparente oppure un filo della stessa colorazione delle perline perché sennò poi si nota quindi ecco abbiamo fatto tre nodini e adesso ci portiamo avanti tra le perline per allontanarci e nascondere il nostro nodino aiuto ecco qua ancora una in questo modo e poi ci dobbiamo spostare nel foro alto di una super duo ecco in questo modo vedete adesso dobbiamo prendere tre rocaille ecco e ci dobbiamo inserire nel foro alto della prossima super duo ecco si formeranno questi piccoli picco tra una super due l'altra continuate così per tutto il giro allora eccomi qui ho finito il mio modulino adesso mi sto portando ad uscire da una 11 zero questa di punta di uno di picco questo passaggio che facciamo adesso lo facciamo solo a due modulini e gli altri li faremo semplici come adesso vedete poi faremo un paio di nodini e basta quindi per esempio per il mio polso servono otto modulini di cui due li farò con l'asolina e sei li farò senza come questo qui semplice quindi adesso dobbiamo fare l'asolina perché questo farà modulino dove sarà attaccata la nostra chiusura quindi prendendo sei rocaille 11 ci inseriamo la stessa rocaille ma dal lato opposto così abbiamo formato la nostra asolina per attaccare la nostra chiusura adesso fate un paio di giri per rinforzare il capietto e poi un paio di nodini e tagliate il filo e fate altri modulini quindi stavo dicendo dovete fare sei modulini senza l'asolina e due con l'asolina l'ultimo che fate con l'asolina lasciate il filo più lungo in modo da poi andare ad attaccare gli altri modulini per non aggiungere altro filo e ci vediamo dopo eccoci qui fate tutti i nostri modulini come vedete questo con l'asolina che il primo e poi 246 senza asolina e adesso un altro con l'asolina che sarà da questo lato vedete ecco che farà da solina da questo lato adesso dobbiamo unirli quindi adesso ci stiamo portando ad uscire da questa rocaille di punta qui vedete non questa che parallela al capietto ma questa qua sul lato adesso prendiamo due rocaille un bicono e due rocaille appoggio metto giù per farvi vedere meglio prendiamo un altro modulino e ci inseriamo nella perlina di punta di uno dei piccò attraversiamo anche la perlina successiva la super duo e anche queste due le prime due perline per uscire dalla perlina di punta questa qua vedete e tiriamo bene il filo come vedete ecco si devono posizionare in questo modo che noi andremo su questo lato ad attaccare tutti i modulini e poi dobbiamo tornare sull'altro quindi andate avanti su questo lato per attaccare tutti i modulini ci vediamo dopo ecco questo per inserire l'ultimo modulino come vedete ho inserito già questi che sarebbe questo con la quindi lo mettiamo in questo modo e ci inseriamo qui vedete in questa perlina attraversiamo tutte le perline da questa parte per uscire poi da questa qui adesso inserisco così vi faccio vedere ovviamente dobbiamo attraversare le perline ecco qua ecco ce l'ho fatta scusate la voce ma ho un mal di gola tremendo quindi usciamo da questa perlina ecco adesso lo sistema un attimo per farvi capire come deve essere ecco in questo modo vedete e adesso dobbiamo fare su questo lato quello che abbiamo fatto qui quindi uscendo uscendo da questa rocca il qui di punta prendiamo due rocca il bicono due rocca e le ci inseriamo in questa attraversiamo per arrivare da questa qui e faremo la stessa cosa fino alla fine del nostro bracciale ed eccoci qui con il bracciale finito come vedete io ho già attaccato anche la chiusura degli anellini e la chiusura il nostro bellissimo cuoricino quasi quasi mi piace anche come charme per metterlo ai vari bracciali è veramente carino e questo è il nostro bracciale ecco sì qui c'ho il bracciale di san valentino con il cuoricino ecco al polso si presenta così vedete è veramente molto carino molto fine e poi con queste perline è una meraviglia guardate un po' sia i bicono e anche le rocca il super 2 ab alla luce del sole secondo me sono una meraviglia bene questo è tutto spero di essere stata chiara e spero che il tutorial vi sia piaciuto mi raccomando lasciate sempre un pollice in su e seguitemi seguitemi scusate sui social li potrete vedere altre novità e vi mando un bacio e alla prossima ciao ciao